Siamo in attesa della squadra dal ritorno della trasfetta di San Marco Trotti, Giovanni Romano, Presidente, Orgoglio Corallino. Oggi che si prova, festeggia il sospendito campionale dei ragazzi di Piste Santo Fusso. Ma che ti devo dire? Siamo partiti quest'estate, non alla venduta, siamo partiti con un progetto, con un programma a cui soprattutto noi ci abbiamo creduto fin dal primo momento. Siamo stati vicino alla società. Più di quello che abbiamo dato non potevamo dare, abbiamo dato tutto. Abbiamo fatto di tutto per appoggiare la società, di stare vicino alla società, squadra. Abbiamo cercato di portare quanto più tifosi possibili allo stadio e penso che tutte queste componenti diciamo che in parte o quasi tutti in parte ci siamo quasi riusciti a portare un po' di ritorno che già da tanto tempo mancava al liquore. La partita più bella è stata quella della Sessana, quella della Sessana è stata più bella. Non dimentichiamo che al girone di ritorno su queste 14 partite, togliendo questa di oggi che non fa testo, le ultime 13 ci sono 12 vittorie in un pareggio e questo già dice tutto. Complimenti all'annata straordinaria dei ragazzi di Santo Sosto e il Presidente Giuliano che sia davvero in là per un grandissimo progetto ambizioso. Ma è quello che ci auguriamo anche noi, soprattutto per l'anno prossimo. Grazie Mario, grazie e sempre Forza Turris.